Non sei di proprietà del Pescara, ma ti chiedo, sarebbe per te, saresti felice di continuare questa avventura in Riva all'Adriatico la prossima stagione? Allora, sì, sicuramente un giorno è andata, ho avuto qualche difficoltà nel giocare, verso la fine avevo trovato un po' più di spazio, anche qualche gol e quindi per quel motivo lì, visto che mi sentivo comunque cresciuto e pronto a giocarmela, sono voluto rimanere perché avevo sposato questa spiazza, questo progetto e quindi a tutti i costi sono voluto rimanere. Ti dico la verità, ora il mio obiettivo è arrivare alla salvezza matematica, prima di tutto poi essendo in proprietà dell'Atalanta cercare di giocarmi un posto sulla Bergamo, poi se in un modo o nell'altro l'Atalanta pensa che ancora magari debba fare un altro campionato in B, penso che Pescara sia la prima piazza che mi rivolgerò e che cercherò di tornare. Mi sono trovato una bella stagione a livello personale, sono contento e quindi sicuramente sono contento di questa stagione e mi sono tra regolette affezionato, nel senso stato bene quest'anno e quindi sicuramente magari rispetto ad altre piazze non dico che a un punto in avanti, nel senso verso magari di scelte, però il calcio alla fine non si sa mai come va, quindi non lo so però sicuramente a Pescara ci ritornerei volentieri.